Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere la realizzazione di questo dolcissimo coniglietto bianco, mi roda, fatto con un cotone numero 3, un uccinetto numero 3, addornato con un fiarellino, sempre un uccinetto e per quanto riguarda gli occhietti e le piangette io ho usato il fimo ma usarebbe buono la stoffa, fanno lenci, il velcro e i rapigli per il coniglietto. Anche in un giro l'ho ricamato con il rosa per fare l'aseno. Molto grazioso, simpatico e dolcissimo. Infatti mi piace da morire. Sono veramente affezionato a questo coniglietto, mi piace tantissimo e spero piaccia anche a voi. Vi metterò la stima e la sua rinistrazione e poi ve lo mostrerò anche nel video finale e magari farò anche il tutorial del fiorellino a per chi vi fosse interessato. Ciao, buon appetito! Ciao, ciao! Grazie a tutti Ed eccoci qui alla realizzazione del coniglio, faremo appunto, questa sarà la testa e la testa verrà così, questa grandezza, poi abbiamo le orecchie, le attaccheremo in basso ma potete anche metterle in alto come volete, io le ho messe basse ma potete metterle anche dritte. E poi abbiamo le braccia, le nostre braccine, io non le ho imbottite, le ho lasciate schiacciate, semplici. E infine le gambette, verranno un po' con questa palla con un leggero allungamento per poi attaccarlo al corpo. Io ho attaccato per le zampette il fimo, questa è la codina e niente, è tutto qui. Per quanto riguarda il fiorellino vi lascerò un tutorial sulla spiegazione anche della realizzazione del fiorellino se vi piace applicarlo, altrimenti potete mettere dei fiocchetti o quello che volete. Il nasino l'ho ricavato con il filo e qui ho usato il fimo ma potete usare il velcro, anche per gli occhi ho usato il fimo. Ecco qui il nostro coniglietto. Spero vi piaccia, ciao! Ciao ciao!